Lavoro, soldi, molta più fatica, ma si possono tenere. I cazzi arrivano quando si cerca ciò che non si può avere. I cazzi arrivano quando si cerca ciò che non si può avere. I cazzi arrivano quando si cerca ciò che non si può avere. I cazzi arrivano quando si cerca ciò che non si può avere. I cazzi arrivano quando si cerca ciò che non si può avere. I cazzi arrivano quando si cerca ciò che non si può avere. I cazzi arrivano quando si cerca ciò che non si può avere. I cazzi arrivano quando si cerca ciò che non si può avere. I cazzi arrivano quando si tehdano i cazzi, per le vie diciamo che non si può avere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.